guardo nella tenebra vi appare una luce luce che vive chi è quella luce nella tenebra sono io stesso nella mia realtà questa realtà dell'io non entra nella mia esistenza terrena ne sono solo l'immagine ma la ritroverò di nuovo quando io con volontà dedita allo spirito passerò la porta della morte mantra di Rudolf Steiner Grazie a tutti